non lo trovo più ciao bella ah che bello mister ecco vai vai che non ti fermi più adesso vai vai che è buona così no vabbè vai tranquillo al massimo scivoli giù e non è facile no ma no qua adesso poi appena piovo no 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 ma attenzione che se vuoi c'hai dentro il cane vai pio hi guys here we are in dry montagnette tre montagnette monte falò a sinistra abbiamo lago mature maggiore maggiore bene ragazzi questo è il paesaggio really stupendo che si può vedere dalle tre montagnette sei pronto per un pezzettino di single track? yes guardalo il cagnolino bello felice anche lui che si gode il panorama fantastico guardate ragazzi la natura quanto è bello qua immersi nel verde adatto a tutti anche ai principianti come bonni questo ragazzi ha le prime armi che si sta divertendo in mezzo alla giungla del montarone qua davanti a me oltre a bonni vediamo il lago d'orta con le sue montagne che lo contorna no ed ecco che qui davanti a me invece c'è Daniele con il suo cagnolino del plaino che si diverte come un pazzo queste sono le uscite scialle della domenica scialle è un termine locale per dire le uscite tranquille fra amici tra gli amici della mountain bike del lago d'orta culo indietro bonni bravo intanto il cagnolino è sempre nello zaino del capo cagnolino di bianco cagnolino di cagnoli fai 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 tutto bene Asia? ma scusami come? ma non ci credo no no vai 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 cazzerò lasciando così almeno puoi mettere su il video su grave l'Italia meglio che sto a destra va? no 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 Sì 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 Esatto Com'è Stefano ti è piaciuto fino a... Allora Stefano ti è piaciuto il sentiero? Bellissimo Bravo Tu è molto... L'ecchino Lui è il cagnolino storico dell'Alpe Vermenasca E arriva il resto della ciurma Oh per l'amor di dio Ciao bella Ok qua ragazzi si riparte dall'Alpe Vermenasca E si va in direzione di Agrano Passando In queste location Veramente particolari Cioè qua sembra Di essere su Marte Si passa in questo canalone In mezzo alle rocce Aspetta che bello che è Intanto i nostri amici qua da avanti si divertono Il famoso discesone L'hai fatto te? No Però oggi lo voglio fare Non ti com... No Oh Dio non fermarmi Dio putta Quando vuoi Mister Ecco Vai vai che non ti fermi più adesso Vai vai che buona così M***a hai rovinato Ma io scendo dal lato No vabbè vai tranquillo Al massimo scivoli giù Ma ci vuole Porco dia Ci vuole anch'io E non è facile No ma no Qua adesso poi appena piovo No no Ragazzi datemi una mano che sto per scivolare anch'io Ma attenzione che se vuole c'è dentro il cane Vai piove Alla fine Ma a tutti Qui vuole Alla fine Ci vuole Grazie a tutti.